Oggi mi è arrivato un nuovo animaletto, parlo ovviamente di animale selvatico essendo volontaria di un centro di recupero. Ed eccola qui, una bellissima mini lepre cucciola. Dovrebbe bere ancora latte, ma purtroppo non ne vuole assolutamente sapere del latte in polvere. Quindi l'ho messa in questa gabbia dove prima, se vi ricordate, c'era la lepre. Così ha a disposizione erba, tarassaco, trifoglio, erba medica e ovviamente fieno sempre disponibile.